Dottori e dottoresse, buongiorno e bentornati sul canale di Marco Costanza per affrontare come consuetudine dei temi legati a Bitcoin. Oggi però è una puntata, un video specialissimo perché vi mostro Bitcoin come mai l'abbiamo visto fino ad ora. Infatti parleremo di un caso d'uso nel mondo reale ma che non è con Bitcoin visto come investimento, tecnologia, moneta di scambio, transizione al green, incensurabilità. Ma è visto più che altro come un protocollo sul quale io posso scrivere in maniera trasparente e certificata dei dati importantissimi, importanti come le elezioni del presidente e dei vari componenti governativi di uno Stato. Ebbene sì, Bitcoin si può interfacciare con le istituzioni per garantire a tutti quanti delle elezioni più trasparenti, quindi una democrazia più veritiera, più giusta. Andiamo a scoprire come fa. Prima di continuare permettetemi subito di ringraziare gli due elementi senza il quale questo video non sarebbe stato possibile. Il primo è il Bitcoin Italia Podcast perché tutte le informazioni che vi dirò in questo video, almeno non tutte ma diciamo il buon 80% delle informazioni, sono prese dal loro podcast. E mi sembrava giusto citare la fonte perché insomma quando un video è fatto in maniera così massiccia da un'unica fonte di informazione, secondo me è giusto citarla. La seconda però è il nostro sponsor, Bitcoin Voucher Bot. Che dobbiamo ringraziare perché sta sponsorizzando un sacco di episodi, quindi grazie Bitcoin Voucher Bot per permetterci tutta questa divulgazione gratuita. Cos'è Bitcoin Voucher Bot? Un'applicazione che potete utilizzare iper facilmente visto che funziona su Telegram, è di fatto un bot Telegram, con il quale possiamo comprare i nostri Bitcoin. Non solo Bitcoin on-chain, ma anche sull'iTree Network, su rete liquid, possiamo fare gli swap, possiamo comprare anche una VPN pagata in zona anti-Satoshi. Insomma, Bitcoin Voucher Bot è un sistema che funziona su Telegram che vi permette anche di acquistare con un DCA, quindi una sorta di piano d'accumulo, i vostri Bitcoin. Ci sono i limiti che sottostano leggi svizzera, quindi parliamo di circa 900 euro al giorno, ma penso che non abbiate problemi a stare dentro questi limiti, almeno io non li ho, se qualcuno li ha complimenti, fatevi conoscere, fatevi conoscere. Bitcoin Voucher Bot è disponibile ovviamente per tutti, visto che su Telegram non dovete scaricare, non dovete fare niente, quindi io vi lascio qua sotto il link per accedere alla chat. Nel frattempo qua di fianco avete visto come funziona e quanto è iper semplice. C'è anche il link, se accedete col mio, insomma mi fate un favore, quindi siamo tutti più contenti e potete acquistare i vostri Bitcoin con KYC Lite e stare tranquilli, dormire sereni e non pensare a niente. Insomma, se avete così, se volete strizzare un occhio alla privacy e all'anonimato, utilizzare Telegram sicuramente vi aiuta a non avere tutti quei tracciamenti delle applicazioni che solitamente ci sono. Grazie mille Bitcoin Voucher Bot per aver sponsorizzato anche questo video e noi adesso ci spostiamo in Guatemala. Il Guatemala, come potete ben immaginare, essendo in America Latina ed essendo un paese non così tanto ricco, ha diversi problemi per quanto riguarda proprio il governo e le istituzioni, no? C'è una lunga storia di corruzione e ogni volta che ci sono da fare delle elezioni il risultato non è mai così trasparente. Ora che ci penso in realtà anche negli stati più grandi abbiamo questi problemi, però insomma negli stati più piccoli è ancora più esagerbato, ancora più accentuato. Forse la parola giusta è accentuato. Perché mi metto in termini in bocca che non conosco? Comunque, in Guatemala ci sono questi problemi sulle elezioni ma finalmente qualcosa può cambiare grazie a Bitcoin. Allora, vediamo come funzionano le elezioni in Guatemala per capire dove sta il problema. Ogni paesino, lo so scritto perché non è che è facile, poi in realtà funziona quasi come tutti gli stati del mondo, però ogni paesino elegge il proprio seggio. Quindi un posto dove la gente, dove i cittadini vanno a votare. Ogni partito, quindi ci sono ad esempio tre partiti che vogliono farsi eleggere, ogni partito invia un proprio rappresentante durante questi seggi. Per dire, ehi, fatemi vedere che quando contiamo i voti sono realmente quelli, no? Ognuno fa i propri interessi e quindi tutti vigilano in modo che non ci siano dei baramenti. Baramenti? Non lo so, continuo a inventare parole io. Si crea questo documento chiamato Acta 4, che è un documento, diciamo, riassuntivo di tutta la votazione che c'è stata in quel seggio e che appunto viene firmato da tutti gli ispettori che sono lì presenti, a tutti i rappresentanti dei vari partiti. Questo documento poi viene scannerizzato, digitalizzato e gestito in maniera elettronica. Ed è lì l'inghippo. Ci sono circa 25.000 seggi. In ogni seggio ci sono cinque elezioni, il che significa 125.000 fogli da controllare. Ogni foglio ha circa 30 dati. Questo vuol dire che ci sono più o meno 4 milioni di singoli dati da controllare. Inoltre ci sono anche delle altre elezioni che producono ancora più documenti. Capite bene che se anche ci fosse qualcosa che non va, che non torna, e valla a scoprire, vai tu a prendere tutti i file digitali e confrontarli con quelli manuali. È un lavoro mastodontico, una cosa che è praticamente impossibile fare. Cioè ti passa la voglia ancora prima di cominciare. E quindi, insomma, visto che questi imbrogli solitamente arrivano proprio in quella fase, è arrivata una startup che, pensate, un po' utilizza Bitcoin per metterci una toppa definitiva e risolvere questo problema. Andiamo a parlare di Fiscal Digital, questa startup dell'America Latina, e scoprire come diavolo ha fatto a risolvere questo problema e a garantire delle elezioni trasparenti. E quindi c'è Bitcoin per la democrazia, qua mi si ha. Hanno inventato una cosa bellissima. Vi spiego, ma fior fior di ingegneri qua. Partiamo subito con il dire che Fiscal Digital parte da un gruppo di Bitcoiner, Bitcoiner, ma Bitcoiner seri, tant'è che lo sviluppo è stato, ed è tutt'oggi, completamente open source, quindi tutti possono vedere come funziona questo sistema, che appunto utilizza Bitcoin. Ma allora, iniziamo a capire il procedimento. Diciamo che si divide principalmente in due fasi. Il primo è quello di mandare una persona in ogni seggio che praticamente cosa fa? Una foto. Fa una foto al documento, lo scansiona, e quindi si può dire che appunto digitalizza questo documento. Noi abbiamo quindi il documento con tutte le firme dei vari rappresentanti, quindi quel documento dice, ok, in questo seggio i voti sono stati questi qua. E questa foto viene poi digitalizzata e scomposta in tanti piccoli pezzi. Quindi immaginate un foglio, dividiamo questo foglio in piccoli quadratini, ebbene ogni quadratino, e qua sta la genialità, viene creato un capcica, già le parole in italiano sono difficili, mettete pure capcica, comunque viene creato questo capcica, spero di averlo detto giusto, da risolvere, e pensate un po', può essere risolto da qualsiasi persona. Quindi io prendo questo documento e diviso in pezzettini, ogni pezzettino io devo risolverlo, cioè devo dire, ok, cosa c'è scritto in questo pezzettino? In sostanza sto andando a verificare, a controllare, che quel pezzettino abbia veramente scritto quel pezzo di codice. Cosa vuol dire? Che quando io riunisco i cacchpca fatti dalle... Non lo so, mi fa ridere perché non so dirlo. Fatti dalle persone, io posso realmente verificare che quel documento non sia stato manomesso, perché ogni persona non sa che parte del documento sta cacchpaccando, insomma, non sa che parte del documento sta risolvendo, no? E quindi è impossibile imbrogliare. Questo è come funziona a livello generale. Ma dove viene utilizzato Bitcoin? Cioè, a che serve? Andiamo più nel dettaglio. Adesso ci avete la panoramica, andiamo un po' più nel deep. Bitcoin viene utilizzato nella prima fase per timestampare il file digitalizzato. E vi freno già. Non vengono usate quelle cacate come gli ordinal, gli stamps, quelle cose bruttissime che anche inquinano il protocollo. Viene utilizzato proprio il protocollo Open Timestamps. Ditemolo se volete un approfondimento su questo Open Timestamps. Ma è un modo di utilizzare la blockchain di Bitcoin per appunto dire questo file qua è stato scattato in questa data. Tac. È lo scritto su Bitcoin. Nella rete più incensurabile e più irriscrivibile del mondo. Quindi c'è una volta che è scritto su Bitcoin, quello è e non posso cancellarlo o modificarlo. Quindi, prima di tutto, mi hanno utilizzato Bitcoin per questo, no? Per fare il timestamp di quella foto. Si dice quel file è così e non è stato modificato, non è successo niente. È lì. Ed è quello. Poi, però, la genialità arriva soprattutto dopo. Perché come mai c'è così tanta gente che decide di compilare questi CAPTCHA? Cioè, perché io mi dovrei mettere a compilare dei CAPTCHA per delle lezioni in Guatemala? Cioè, che me ne frega? Cosa me ne viene addosso? Cioè, perdo pure del tempo? E qui la genialità sta nel Lightning Network. Ne abbiamo già parlato in diversi video, ne continueremo a parlare, ma ve lo risottolineo. Lightning Network, grazie ai micropagamenti, ha introdotto delle funzionalità che non erano possibili, non erano nemmeno sperimentabili fino a qualche anno fa. E grazie al Lightning Network, ogni volta che un utente risolve un CAPTCHA, riceve 20 SATOSHI. Li riceve subito, immediatamente, in maniera istantanea e gratuita. E questa è la vera novità. Cioè, io sono stimolato, sono portato a voler fare questa verifica, questo audit, quindi a risolvere questi CAPTCHA, perché ci guadagno. Cioè, avete capito quanto può cambiare il mondo questa cosa qui? Non si parla di Bitcoin utilizzato per cose digitali, si parla di Bitcoin utilizzato per cose nel mondo reale. Cioè, immaginate, io qua dall'Australia, o quando sono in Italia dall'Italia, posso aiutare le elezioni del Guatemala a essere trasparenti, semplicemente risolvendo un codice di cui io non devo nemmeno sapere nulla. Cioè, io vedo un'immagine dove c'è scritto, che ne so, questo è uno zero, un quattro è un uno, e tu devi riscriverlo, e in quel modo lì vado a verificare che realmente quel pezzo del documento ci sia scritto zero quattro uno. Per farvi anche una panoramica un po' più generale, può capitare, no? Essendo documenti scritti a mano, quelli che poi vengono fotografati, che ci siano dei numeri che non si capiscono bene, delle lettere un po' ambigue, ma la bellezza è proprio lì, che con la possibilità di andare worldwide, quindi andare in tutto il mondo, io posso ripresentare quel Kapshka a mille persone diverse e ottenere un valore molto più affidabile, perché non c'è più un'interpretazione singola di quell'immagine, ma tutto il mondo dice, ok, per me, mettiamo a caso, nel 90% dei casi, quello è uno zero, quello è un quattro, quello è un uno, anziché essere una I o una L, insomma, ci siamo capiti? Nel caso invece di un'istituzione centrale che fa questa cosa in maniera totalmente manipolabile, loro possono, una volta digitalizzato il dato, prenderlo come vogliono, gestirlo come vogliono, e quindi non puoi sapere dove è stato il problema. Vi faccio vedere poi nell'effettivo come questo Fiscal Digital ha fatto tutti questi test. Eccolo qua, questo è il sito di fiscaldigital.net e vi faccio vedere molto semplicemente come funziona. Che ne so, prendiamo questo paese qui, prendiamo ad esempio Guatemala, o il distretto centrale, prendiamo il distretto centrale, il primo, vediamo che è un'affidabilità del 99,2. Ci clicchiamo, andiamo a vedere che qua c'è solamente, diciamo, il quartiere via di Guatemala, e andiamo un po' a vedere cosa è successo nei vari, nei vari seggi, nelle varie votazioni. ecco qui che abbiamo diverse schede che sono state al 100% affidabili, mentre noi possiamo vedere a colpo d'occhio, ad esempio qui, 97,55, che c'è stato qualcosa che non è andato tanto bene, cioè qualche dato che non è così tanto affidabile. Vediamo ad esempio qui, col 72,73% del documento, che qualche dato non è stato praticamente veritiero rispetto a quello che poi è stato scansionato. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo un problema, ci sono delle votazioni che non ci sono chiare, istantaneamente possiamo andare subito al documento di cui meno abbiamo fiducia, perché vedete qua ci dice già, guarda, questi documenti sono stati verificati al 100%, se vai qui non c'è niente che non va, ogni codice è stato diciamo compilato nella maniera giusta e quindi è tutto perfetto. Mentre, se tu mi vai su questo acta, sarà perché ci hanno scritto 700.000 cose e quindi leggere i codici magari era anche più complesso, ma qui potrebbe esserci qualcosa che non va. Io so esattamente in quale seggio è stato fatto questo documento e quindi, nel caso in cui io voglia verificare le elezioni, il risultato non mi convince, insomma, qualsiasi verifica del caso voglia fare, in maniera rapida e iperfacile direi, io posso andare a controllare che realmente le cose stanno come stanno, perché vi ricordo questo è il documento firmato dai rappresentanti dove i voti sono quelli, perché o i rappresentanti si corrompono tra di loro prima di firmare, e vabbè, lì c'è poco da fare, ma se i rappresentanti firmano un documento reale, poi non c'è la possibilità di imbrogliare dopo, perché è stato tutto verificato tramite bitcoin. Dottori, io veramente sono stupefatto da questa trovata, è geniale, utilizza bitcoin per scrivere in maniera indelebile dei dati importantissimi per il mondo reale e il lightning network per rendere sostenibile questo modello. Cioè, diventa realmente un business fare audit delle elezioni e le stesse persone che lavorano, un po' tipo la gig economy, no? Io non è che devo lavorare per Fiscal Digital, io posso fare i miei capcica di lavoro, compilo capcica del mondo, perché la gente mi paga per verificare i dati e io non so nemmeno di che dati si sta parlando e questa è la cosa ancora migliore. Veramente, una genialità, una genialità, fatemi sapere cosa ne pensate di questa trovata, se la conoscevate, ne dubito, perché insomma non sono cose così famose, però metti che ascoltate anche voi il Bip Show, allora lo sapete, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di queste trovate e se anche voi quindi vedete un futuro per Bitcoin così rosio, perché se già viene utilizzato per queste cose qua e le espandiamo, è un attimo che Bitcoin diventa protocollo mondiale, altro che internet, qui siamo rivoluzione globale, totale, mondiale, come internet, effettivamente come internet, però non lo so, per Bitcoin c'è anche, non lo so, preferisco Bitcoin, internet ormai è passato, dottori, grazie mille, buona giornata, buona continuazione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo entusiasmante video, a presto. e noi ci vediamo a presto. a presto. a presto. a presto. a presto. a presto.